Clemenza dentro per l'inserimento, ottimo con i tempi giusti di Mogos, parte il traversone Rossetti, per un attimo non arriva a staccare ad un metro dalla linea bianca Clemenza lo fa partire, debole centrale, nessun problema per Guarna Batte parlati, tagliato, colpo di testa di Bianchi, questa è la migliore occasione del primo tempo per l'Ascoli Prova a ripartire il Foggia adesso, Mazzeo, gran lancio per Beretta, l'anni prova ad anticiparlo, Beretta invece lo salta, la porta è vuota Beretta va con il testo direttamente in porta, la traversa, clamorosa, Mazzeo, sopra la traversa Che occasione per il Foggia Dalla voglierina, la voglia che rimane lì, Camponese E il Foggia passa al ventunesimo della ripresa, primo gol in rosso nero di Michele Camponese Chirico, vertice dell'area di rigore, punto all'avversario, in trenare a Chirico, sfuggito, Chirico Il raddoppio del Foggia, quarto in campionato, sempre in trasferta Chirico, fuggito, 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 f